La collezione Moretti Compact di quest'anno è incentrata principalmente su camerette da bambino, però pensando già a quando crescerà e diventerà ragazzo, quindi l'utilizzo di colori più tenui, di fantasie più sobrie, cercando di offrire quindi un prodotto che duri nel tempo, che non abbia necessità del ricambio quando i bambini diventeranno ragazzi. Il primo protagonista di questa collezione è la MC-018, è una cameretta dove abbiamo utilizzato i nostri contenitori wallbox, li abbiamo utilizzati sia come contenitori pensili che come contenitori in appoggio su basi in metallo. Il bello di queste basi è che sono totalmente laccate e in tinta con gli armadi e quindi racchiudono questi armadi in una cornice. La composizione MC-012, questa soluzione ha una testata molto particolare, sono dei pannelli in nove dimensioni che abbiamo chiamato Tetris, sono disponibili in versione ecopelle e tessuto totalmente sfoderabili e possono essere utilizzati sia in orizzontale che in verticale, e quindi permette la componibilità infinita di soluzioni attrezzate e sempre componibili insieme ai nostri contenitori wallbox. La composizione di punta di quest'anno è la MC-010, è pensata per un bambino ma anche per la sua crescita. Ha la possibilità di avere un secondo letto ma non solo, il fascione frontale totalmente imbottito può trasformarsi in una protezione anticaduta, quindi pensata per il bambino piccolo ma anche poi per quando crescerà. Grazie. Grazie. Grazie.